Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera Peppe Marconi, buonasera dottore, buonasera commentatore ragioniere, tutti i dottori oggi, una volta erano commentatori, si è vero, senti, commentatori ce n'è pochi perché le imprese ce n'è poche adesso, chiaramente il commentatore è un dirigente d'impresa abbastanza importante, oggi si chiudono invece di aprirle, oggi si chiama CEO allora sai che anche i nostri telespettatori si stanno appassionando a questa serie che malgrado noi stiamo dedicando agli scarichi irregolari, queste acque che non si sa da dove arrivano puzzolenti, ne abbiamo fatti tre o quattro, guarda fra poco ci sono le zanzare che portano via qui, quindi facciamoli tutti ora perché dopo non ci vengo più che mi mangiano un telespettatore ci ha segnalato, qui siamo nella parte finale credo di via Montessori che inizia al campus del Pionta, poi non si sa se anche qui è via Montessori, siamo vedete tra l'ospedale Pescaiola e il Pionta e la parte delle palazzine abbandonate del Pionta e qui in questa parte, ex abbandonate, tutte queste qua giù in fondo, queste qui sono tutte state risistemate, e in questa diciamo area paludosa verde, ci voleva una piscina questa zona, ci ha pensato il buon Dio a farla la sera la tua piscina, qui c'è qualcosa che non quadra, perché uno potrebbe pensare è l'acqua piovana che ristagna, qui si sente intanto un odore, un odorino si sente e poi mi sembra strano che tutte queste giornate di sole, questa acqua è anzi asciugata, infatti è piovuto quasi niente, sono quante un mese, due mesi che non piove, è esagerato, è vabbè è piovuto un giorno due, non più, e quindi che abbia fatto una cosa del genere, che l'acqua non venga assorbita dal terreno, mi sembra strano, sicuramente qui sembra che sia, anche vedi dall'erba, sembra sia perenne perché non nasce erba, se non questi, questo tipo qui, un tipo di erba che sembra che vada bene, e queste canne che sono veramente da acqua acquatiche, sicuramente qui l'acqua c'è spesso, se non sempre spesso, quindi arriva da qualche scarico qui, non si vede da dove arriva, magari da queste palazzine che hanno chi messo a posto, non lo so, o dall'ospedale, a dove arriva sta? L'ospedale qua non può arrivare, se arriva, arriva da Palazzina Monte che scaricano il quaggiù, non lo so, non ti saprei dire, non ti saprei dire perché se è piovana, logicamente è tanto tempo qui, quindi è imputridita, se non è piovana sicuramente qualche scarico rotto, qualcosa che non funziona, sicuramente è così. Magari se ne è accorto, perché non è che uno viene proprio qui a vedere e ci viene tanto volentieri, magari che ci passa, non l'ha notato, ma noi abbiamo persone molto attenti, che ci hanno telefonato e ci hanno detto andate lì e vedete, siccome in questi giorni qui mi trascinano, dimmi. Mi interessate molto di... Stava cadendo nella palude il tecnico. Non lo dico, dai. Dimmi. No, visto che mi interessate tuttamente molto di scarichi abusivi... Come stasera sei così educato, che di solito non ti fai tanti problemi. Ah, volevo dire sei di merda. Esatto, e poi non sapevo che era dietro l'angolo. Quindi di conseguenza la gente sa che siamo interessati a questo, ci fa le segnalazioni. Come esperti. Esatto, esatto, esatto. Potremmo mettere subietti una... Uno spurgo. Uno spurgo, bravo. Mi hai tolto la parola in bocca. Un'azienda di spurgi. Esatto, che qui c'è da spurgare parecchio. Hai capito? Sì, ormai sappiamo anche il sito dove venire. Sappiamo tutto. Però bisogna ci paghi... Peccato che non lo sa chi deve andare a vedere. Però bisogna ci paghi, non so se va a fallire subito in partenza. Esatto. Comunque noi stiamo, come si dice, che so, barzellando. Come? Barzellando. Balle con la L. Barzellando. Barzellando. Invece in Casentino tendono più a... Mi sa che la R su tutte le cose. No, quella L. L. Barzellando. Come Livorno. Il nostro caro amico assessore. Però? Per chiedergli, facciamo una cosa accumulativa. Manto riesce beccarlo? E non è semplice. Ho capito. Chi è il nostro assessore? Questo assessore Sacchetti. Ah, ho capito. Più faccio lo becchio che lo bacchi te. Perché tu hai i tuoi... Non mi far di che cosa. Vabbè. Comunque, se lo vedi, portagli il verbo, il messaggio. Che noi vorremmo avere la televisione per darci delle risposte. Prendi un'ampolla e gliela porti. Faccio il laboratorio di analisi. Dai, dai. Comunque, bisogna fargli intervenire in questi posti perché non è giusto. Si rendano conto, effettivamente, le problematiche che ci sono. Da, qui c'erano tante queste perdite. Bravo. A domani. Ciao.